no no no, questo no, questo no, questo qua è molto solo vieni Jacopo, vieni, vieni veloce, zio veloce dove stai zio? qua qua dentro, dentro, zio veloce, dai zio no, scopo vieni a me, ragazzi porco dio, vieni vieni, guarda lo microfono, zio, vieni qua c'è la madonna di Lelys eccolo, ce n'è stato da te si mamma dai, ho fatto uno che contiene, aspetta dietro? eh lo so chi si sa cazzo no, il negrio Bajruski il cazzo è un po' che muhamana al mick-nick-nak-lack mamma mia guarda, 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 guarda qua Bajruski non è vero non è vero non è vero guarda guarda gli amici nuovi i negri i negri fatto mamma mia il primo sangue di l'oschia no mamma stai sentendo non ci credo ma la dritta non ci riesco a scuola no 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 ma che c'ha fatto il dritto scuola stavo spagato io non lo tengo nessuna borsa non lo tengo vaffanculo vaffanculo guarda che ci sono uno che non mi ha dato ma l'ho seguitato da ne non ho secondo te non ho te senti non è truffato mai è la gente non va madonna simone di quanto simone al volo bello come stiamo ad anadre quello nero ma mi sta scappando ha fatto io l'ho fatto ma mi lascia che stai ragazzetta mia ma per me tutti sappiamo che stai la madonna eccola doveva dire la cagata no non stavo ricaricando ho sentito i fangolo mai 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 ma che c'era qua non chiedere le frasche stava ragazzi non gli fate fare l'ultima kill a jacobo con questo momento da fare l'ultima ahhh